Reda Cricquet, 34 anni di nazionalità francese, resterà in carcere perché giudicato estremamente pericoloso. L'uomo è stato arrestato giovedì scorso a Boulogne-Bilancourt, vicino a Parigi, secondo gli inquirenti francesi preparava un attentato. Nella casa di Argenteuil nascondeva un arsenale ed esplosivi. Cricquet era stato condannato a dieci anni di prigione con Abdelhamid Abaud in contumacia all'indomani degli attentati di Parigi. Al suo arresto in Francia è collegato quello avvenuto nella notte di sabato di un uomo di 32 anni a Rotterdam, sospettato di preparare un attentato insieme ad altri tre complici. Due di questi ultimi hanno un'età compresa tra i 43 e i 47 anni, di origine algerine.